Nel 2024 non si possono più sentire certe affermazioni e ostinarsi su un argomento che non sta né in cielo né in terra. Non c'è stato mai in pratica e oggi ancora più di prima. Vasco Rossi, la sua uscita, ha stimolato quelli che io chiamo malati, dementi, celebrolesi, ignoranti, disturbati mentali, perché lo dico subito, Vasco Rossi ha detto che suo padre era antifascista, ovviamente si riferiva a un periodo storico, perché se parliamo del padre, quindi si presume che sia durante la seconda guerra mondiale, come i padri di questi padri, i nonni, non so, erano contro il Medioevo, erano contro altre cose, altri ancora prima erano contro le guerre puniche, non so, possiamo andare all'infinito fino alla notte dei tempi. Fascista, comunista, tutto quello che vogliamo, li possiamo anche chiamare Giuseppe, Pasquale, Michele, il senso non cambia se una cosa è nella natura umana, non ci puoi fare nulla. E' questo che non riescono a capire nel 2024. Se noi prendiamo ogni singola persona da me per primo, se toccano gli interessi di qualcuno o mettono in pericolo la vita del singolo, tutti diventano fascisti, tutti diventano violenti, tutti diventano, non so, vogliono la pena di morte per quello che gli ha fatto o quella che gli ha fatto del male. E nella natura umana. Adesso, ritornando a questi malati, celebrolesi, deficienti, idioti, imbecilli, e per chiudere, perché la sinistra ha perso così tanto negli anni? Perché? Sicuramente qualcuno starà dicendo adesso, ormai, questo è fascista. Sapete perché? Perché tanta gente, pur non essendo di destra, pur non essendo di centro, pur non essendo di sinistra, ha solamente detto la sua, un suo parere così spassionato, è stato subito etichettato. Chi non era d'accordo con questi malati, con questi deficienti, con questi deviati, viene, veniva etichettato come subito fascista. Subito. Quindi una persona che si è sentita attaccata la prima, seconda, terza, quarta volta, ha detto, sapete che c'è? Provo colameloni. Quindi quando mi devo sentir dire che sono fascista, eccetera, eccetera, provo. Ciliegina sulla torta. Chi vi sta parlando è sempre stato un socialista. Quando ho sentito, ho cominciato a intuire questa litania, subito me ne sono andato, perché questa non è libertà, non è democrazia, non è niente. E, appunto, sententomi dire, a seguito di alcune mie impressioni, pensieri, liberi, eccetera, eccetera, che sono fascista, ho detto, sapete che c'è? Ho provato con Fratelli d'Italia. Nel 2016, comunque sia, ho provato e vabbè, ci ho rinunciato. Adesso non faccio né parte del socialismo né parte di Fratelli d'Italia, eccetera, per farvi capire di quanto sono deficienti, imbecilli questi idioti a piede libero in Italia e perché poi la sinistra, e lo dico a mal in cuore, perché poi la sinistra ha perso tanti voti. Per questo motivo, se vedete come hanno spammato con le parole di Vasco Rossi, lui dice che suo padre era antifascista e poi tanti hanno risposto a lui dicendo che non è vero. Questi malati hanno detto che quelli che dicono che non è vero hanno confermato che ci sono tanti fascisti, cioè loro. Hanno rinsultato tanta gente. Ecco perché la sinistra perde, ha perso, straperde, morta, sepolta. Buona domenica a tutti!